Come va? E bentornati sul mio canale. Come sempre vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E tenetevi forte perché nel video di oggi di novità ce ne sono tantissime. Intanto iniziamo con alcuni consigli, poi vi do alcune informazioni, quindi ci sono consigli, informazioni e poi come sempre alla fine del video c'è la notizia di oggi. Nella notizia di oggi parleremo di un argomento che avevo già annunciato in precedenti shorts, quei video non orizzontali ma quelli verticali, quelli da un minuto, di una notizia che arriva dall'Unione Europea e che riguarderebbe una questione monetaria. Ma di questo ne parliamo alla fine del video. Quindi partiamo subito con la primissima notizia. Allora, voi lo sapete, l'altro giorno, la scorsa settimana, il sito internet dell'Inps è stato aggiornato e così mi avete iscritto in tanti. Tra l'altro avevo scritto anche un post qui su YouTube dove vi informavo di questo cambiamento. Ma voi mi avete iscritto in tantissimi sotto i video dicendomi che avete trovato difficile riuscire a entrare all'interno del sito internet. Così oggi vi spiego molto, ma molto brevemente, ovviamente, se no ci stiamo una giornata intera, come controllare RDC sul nuovo sito internet dell'Inps. Tra l'altro, le informazioni che vi do non servirà solo per controllare RDC, ma anche per avere altre informazioni. E come vedrete, la procedura è molto molto semplice. Intanto bisogna avere sotto mano tutte le credenziali per poter entrare all'interno del sito internet. Quindi diciamo che partiamo dalla base che è lo speed. Poi, tra l'altro, ricordatevi che da qualche giorno è attivo e comunque verrà attivato un po' alla volta anche in servizio di riconoscimento digitale. Brevemente, il riconoscimento digitale è una funzione che ha attivato l'Inps che serve per riconoscere le apparecchiature che utilizzate quando entrate nel suo sito internet. Quindi se voi entrate con un nuovo telefonino, un nuovo tablet, un nuovo computer che l'Inps non riconosce, vi informa dicendomi, oh, attenzione, guarda che c'è qualcuno che sta cercando di accedere alla tua area riservata con un sistema che io non ho mai visto prima. Quindi confermi o non confermi? Ma eventualmente di questo argomento poi ne parliamo bene in un altro momento, ecco. Quindi ora facciamo l'esempio per entrare nel sito internet dell'Inps usando il fascicolo previdenziale. Allora, prima di tutto bisogna accedere al sito internet dell'Inps, fino lì non c'è nessun problema, www.inps.it. Successivamente nella barra in alto dove c'è scritto ricerca bisogna scrivere la frase fascicolo previdenziale, premere invio dove c'è scritto ricerca, successivamente cliccare il tasto approfondisci, cioè praticamente viene fuori un elenco di cose, fascicolo previdenziale del cittadino, c'è scritto approfondisci, vicino al primo risultato proprio dove c'è scritto fascicolo previdenziale. Dopodiché cliccare sul tasto blu utilizza lo strumento, a questo punto entrare nel sito usando una delle credenziali che utilizzate di solito, quindi non lo so, lo speed, carta di identità elettronica, cns, eccetera eccetera eccetera. Una volta entrati, ovviamente avete messo username, password che siete passati tramite speed, nel menu a sinistra c'è un elenco di cose, bisogna cliccare sulla sezione che c'è scritto prestazioni per vedere i dati che poi ovviamente vi servono, quindi come vedete è veramente veramente facile. Se non vi ricordate qualche passaggio basta tornare un attimino indietro a questo video, vi prendete nota dei passaggi, ecco ve li scrivete e così insomma vi rimane un talloncino, uno specchietto scritto. Cambiamo argomento e parliamo di un'altra questione che riguarda sempre RDC ma sotto un'altra forma, andiamo un po' veloci se no poi non ce la facciamo a parlare dell'argomento finale. In questi giorni pare che ci sia di nuovo un grande caos nei pagamenti di RDC perché leggevo in giro che addirittura ci sono delle domande respinte. Partiamo subito dall'importo che è stato accreditato, cioè pagato, sulla carta di RDC perché molti di voi mi avete scritto nei commenti che ci sono stati degli accrediti di appena 10 o 12 euro. Come ben sapete l'Inps ha iniziato a pagare il RDC il 15 di questo mese e tutte le persone e famiglie che a suo tempo avevano fatto il rinnovo del sostidio e che quindi giustamente aspettavano l'accredito, molte di queste persone avevano all'interno del nucleo familiare, una persona con disabilità al 100%. Quindi pare proprio che a queste famiglie siano stati pagati questi piccoli importi da 10-12 euro, ma andiamo avanti perché ci sono state anche delle famiglie che hanno aspettato il primo accredito del sussidio per poi vedersi rispingere la domanda con delle motivazioni che sinceramente ancora non ho ben capito. Anzi, facciamo una bella cosa, facciamo così, se qualcuno di voi è stata respinta la domanda, fatemelo sapere qui sotto nei commenti così vediamo di capire tutti quanti insieme che cosa potrebbe aver causato questo tipo di problema. Poi, sempre per aggiungere altre questioni, come vi avevo già detto anche in altri video, i tagli di RDC sono stati applicati per la maggior parte a tutti coloro che hanno ricevuto un aumento della pensione, dell'assegno sociale, della quattordicesima oppure la maggiorazione sulla pensione di invalidità che è riconosciuta agli invalidi civili totali, cecchi civili assoluti, sordomuti e inabili al lavoro. E allora la questione è come risolvere il problema. Intanto scrivete qui sotto nei commenti se avete avuto questo tipo di problema del taglio sull'importo che doveva essere pagato a metà mese, con eventualmente anche la motivazione che vi ha dato l'Inps, perché se mi dite solo ho avuto questo problema ma non mi dite anche il motivo, rimane un po' difficile da capire. E poi, oltre a questo, magari sarebbe, ecco vi do un consiglio, quindi il consiglio dell'esperto, sarebbe utile anche magari contattare il vostro consulente fiscale o il CAF per vedere se anche lui riesce a risolvere questo problema. Infine, però, mezzo a tutto questo grande pacciocco di pagamenti, c'è una bella notizia. Ogni tanto ci sono anche delle belle notizie, fortunatamente. Mi ricordo che dal 27 e fino alla fine del mese sono poi previsti i pagamenti di RDC per chi aspetta la ricarica ordinaria e le integrazioni di assegno unico. Apro una parentesi, qualcuno di voi mi ha scritto dal 23, ma sinceramente dal 23 io lo trovo troppo in anticipo. Ecco, perché sembra un po' strano, eh? Comunque, nulla, cioè, niente potrebbe essere, ecco, se dovesse essere un anticipo al 23, anche se mi sembra molto strano, ve lo farò sapere qui sotto nei commenti oppure vi farò sapere poi un altro video, vi farò un video breve, vi metterò un posto, insomma, in qualche modo ve lo faccio sapere. Cambiamo argomento e parliamo della notizia di oggi, quindi via alla sigla. Eccoci tornati. Allora, mettetevi comodi perché non so quanto c'è da dire un po' di cosine, ecco, c'è da approfondire un attimino questo argomento, perché l'altro giorno mi avete scritto in tantissimi, nei commenti, sotto il video, mi avete mandato dei messaggi, guarda Luigi che è successo questo, l'Unione Europea ha detto questo e quest'altro. Allora, adesso cerchiamo di capire un attimino bene che cosa è successo. La Commissione Europea ha deciso di avviare una procedura di infrazione, una procedura normalissima di infrazione, quindi tu sei stato incuranto contro l'Italia per quanto riguarda l'assegno unico ERDC. In base a quello che ha detto la Commissione Europea, sembra proprio che il reddito di cittadinanza non sarebbe in linea, quindi non sarebbe a posto, con il diritto, con praticamente tutti i loro diritti, le loro leggi dell'Unione Europea, su questi argomenti che sono quattro questioni. Allora, la libera circolazione dei lavoratori, i diritti dei cittadini, i residenti e la protezione internazionale. Adesso vi spiego bene che cosa vuol dire tutto questo. Allora, la Commissione Europea avrebbe detto che le varie prestazioni assistenziali, come anche appunto il reddito di cittadinanza, dice proprio così, dovrebbero essere pienamente accessibili ai cittadini dell'Unione Europea che sono lavoratori subordinati, quindi lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi o che hanno perso il lavoro indipendentemente dalla loro storia di residenza. Dopo comunque, cioè dopo nel video, vi spiego bene che cosa vuol dire tutta questa frase, perché mi pare che nessuno lo abbia capito veramente, che cosa vuol dire, perché per il motivo vero per cui è arrivata questa infrazione. quindi pare di capire che la Commissione Europea si è attaccata al fatto che il problema sia legato al requisito della residenza in Italia da dieci anni. E già qui iniziamo a entrare un po' più nel vivo. Poi non solo, perché la Commissione Europea dice che il reddito di cittadinanza dovrebbe essere esteso anche ai cittadini comunitari, quindi tutti quelli che abitano all'interno dell'Unione Europea, che non, non, attenzione, che non lavorano per altri motivi, con la condizione che risiedono legalmente in Italia da più di tre mesi e soggiornanti di lungo periodo al di fuori dell'Unione Europea. Anche qui, detto così, si capisce poco. E' colora che quindi il requisito della residenza in Italia da dieci anni è considerato una discriminazione, una discriminante, che non va bene, ecco. Ma non solo RDC, perché la Commissione Europea si è attaccata anche all'assegno unico e ha aperto anche una procedura di infrazione, sempre contro l'Italia, su un nuovo assegno unico universale per i figli a carico, di cui, dicono loro, ne possono usufruire solo le persone che risiedono in Italia da almeno due anni e solo se risiedono nella stessa abitazione dei loro figli. Quindi anche qui la Commissione Europea dice che queste regole violano il diritto dell'Unione Europea in quanto non trattano i cittadini dell'Unione Europea, quindi tutti gli abitanti dell'Unione Europea, allo stesso modo e che quindi alla fine sono discriminatorie. Ma non solo, perché non si è attaccata solo a questi due, l'Unione Europea si è attaccata anche agli assegni familiari. Ovviamente non sono mancate le discussioni, le polemiche e il Presidente Tridico, tra l'altro, ha detto delle cosine, ha affermato qualcosa che adesso vi dico e questa parte qua l'ho presa una fonte che arriva direttamente dal Sole 24 Ore. E lui dice i controlli su RDC non solo si possono fare, ma si sono sempre fatti. In questi anni abbiamo fatto controlli che hanno dato vita a circa 11 miliardi, 11 miliardi di euro di prestazioni non pagate, perché abbiamo verificato che coloro che facevano domanda non ne avevano diritto. E prosegue dicendo abbiamo un tasso di rigetto delle domande all'anno di circa il 32%, quindi su un milione di domande noi ne abbiamo rigettate 300 mila e in questi quattro anni noi abbiamo rigettato e tra revoche e decadenze complessivamente 3 milioni di domande. E sono un bel numero di domande rifiutate, ecco. Poi ovviamente ha parlato anche Calderone, però di questa parte qua l'assalto perché sennò diventa lungo come una quaresima e se volete sapere che cosa ha detto Calderone vi lascio poi il link qui sotto, ve lo andate a leggere tranquillamente. Quindi, conclusione finale su cosa veramente ha detto l'Unione Europea e su chi pagare e chi no. Allora partiamo da questo fatto. Vi riprendo la frase che abbiamo detto all'inizio. Allora, l'Unione Europea dice dovrebbe essere pienamente accessibile ai cittadini dell'Unione Europea che sono lavoratori subordinati, autonomi o che hanno perso il lavoro indipendentemente udite bene, udite bene dalla loro storia di residenza. Quindi questo vuol dire che l'Unione Europea non ha detto che l'Italia deve continuare a pagare RDC. anche perché io non ho scoperto una nuova che poi vi metterò in un prossimo video, eh? C'è una novità. Ho scoperto una cosina nuova ma la metto poi in un prossimo video. Quindi detto che torniamo a noi. L'Unione Europea non ha detto e tu Italia devi continuare a pagare RDC. Attenzione. L'Unione Europea se l'ho detto che per loro i dieci anni di residenza sono troppi. Ecco. E che quindi il RDC deve essere pagato indipendentemente da dove uno risiede. Facciamo un esempio. Se un tedesco, uno spagnolo, un greco viene alla sua residenza dove, il greco, ha la sua residenza in Grecia e viene qua a lavorare e poi perde il lavoro e sta qui in Italia, il greco che comunque risiede alla residenza in Grecia ha diritto di chiedere la RDC in Italia perché ne ha diritto. Ecco. Anche se lui risiede in Italia. Minimo mi pare fossero tre mesi. Ecco, se non ricordo male c'era questa storia dei tre mesi adesso ecco se infatti minimo tre mesi quindi deve stare in Italia risiedere legalmente in Italia da più di tre mesi e non dieci anni come dicevano loro. Quindi ecco questo è quello che ha detto l'Unione Europea non è assolutamente vero non so dove sia uscita questa notizia che qualcuno mi ha scritto sì perché l'Unione Europea ha detto che l'Italia deve continuare a pagare i retici non so da dove sia uscita questa storia evidentemente qualcuno ci ha marciato sopra ci ha ricamato sopra come capita spesso sulla notizia e se non è uscita fuori questa cosa ma in realtà l'Unione Europea ha detto tutt'altro qui si parla di dieci anni anziché tre mesi ecco questo è comunque io la chiudo qua perché sennò poi il video diventa lunghissimo vi lascio qui sotto nella infobox il collegamento diretto all'articolo dove ho preso la notizia così ve lo potete andare a leggere tranquillamente con tutta calma quando e come volete io vi ringrazio per avermi guardato vi ricordo di iscrivervi al mio canale di YouTube qui sotto di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità e come sempre noi ci vediamo sempre e solo sull'unico canale originale di YouTube il mio vi aspetto ciao ciao Grazie a tutti.